segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ora le faccio vedere questo immagine è un momento informale del viaggio dell'italiano del francese del tedesco a kiev e cosa pensi di questi immagini ha fatto benissimo secondo me a proiettare queste immagini perché dall'idea di quello che sta accadendo tre persone poco più 4 5 ci vuole mettere dentro anche biden e stoltenberg che decidono per la vita di centinaia di milioni di persone la situazione che si è creata soprattutto in italia è esattamente quello che io ho descritto parlamento che non conta nulla c'è soltanto un presidente del consiglio che in contatto diretto con biden vogliono decidere però come lo chiamano risponde in continuazione io adesso non parlo con voi ormai è tardi non è tempo delle parole così draghi riporta certo ma che dobbiamo fare alziamo il telefono chiamiamo questo ci manda quel paese draghi draghi anche lì anche quello è un caso di manipolazione dell'opinione pubblica perché draghi che cosa ha fatto draghi ha prima mandato degli obbici spaventosi all'esercito ucraino poi dottore se questa è la sua posizione legittima non è la mia posizione io mi metto anche nei panni di un paese che viene invaso l'ucraina è una nazione sovrana che viene invasa guardi e il mondo dice ti diamo una mano dottore non è che possiamo fare venite ammazzate lì tutti posso dirle una cosa allora io la pagina wikipedia mia purtroppo è caduta sotto il controllo di un gruppo di detrattori quindi è piena di falsità è tutta costruita negativo è una delle falsità che ci è scritto sulla mia pagina wikipedia che avrei affermato che l'ucraina avrebbe dovuto astenersi così testualmente dalla difesa militare che è un'idiozia perché non ho mai detto una cosa del genere ho sempre detto che l'ucraina ha tutto il diritto di difendersi e di sparare contro i russi io ho messo in questione io sto criticando le politiche dell'occidente nei confronti dell'ucraina io non sono mai intervenuto su quello che zelensky avrebbe dovuto fare che sono cose io intervengo su quello che l'italia potrebbe fare perché sono un italiano e quindi mi occupo del governo italiano allora faccio una domanda bruciabelo secondo lei mi scusi biden perché questo è il punto chiamerà mai putin o putin chiamerà mai biden siamo qui a chi chiama chi prima intanto ammazziamo lasciamo morire tutti cioè una chiamata io capisco l'orgoglio di ognuno però di fronte a quello che sta succedendo forse fare una telefonata potrebbe far cambiare le cose una sola per vedere che sei dentro una sola telefonata e serve l'abbiamo visto in questi mesi per prendere in giro le persone perché le telefonate non servono a nulla una telefonata non ha mai fermato una guerra devi fare delle offerte concrete che sono le due che gli ho detto basta espansione della nato e confini con la russia e aprire un dialogo sul donbass che sia autonomia o che sia indipendenza questo è da vedersi ma chi la deve fare questo lei ha capito non è che se vado ciao se vladimir stai bene ma è chiaro che tutto un lavoro preparatorio ma se non c'è questo passaggio qui io uno dice vado avanti l'altro vincerò se nessuno fermerà questa guerra rispondo farei soltanto il rischio che diventi un afghanistan in europa c'è una siria ma già ci siamo già nel senso che gli stati uniti hanno stanziato 40 miliardi di dollari da dare all'ucraina ma dicono che non vogliono più stanziarne altri mi sembra scusi dottore parliamo di un punto del bilancio federale 40 miliardi di dollari è una cifra spaventosa gli stati uniti non daranno 40 miliardi di dollari all'ucraina tutti insieme un miliardo alla volta quindi gli stati uniti biden ha creato le condizioni per la sirianizzazione della guerra in ucraina non so se mi segue cioè non è che lui darà 40 miliardi tutti insieme e basta ne da un po' alla volta e quando tu dai un miliardo di armi all'ucraina è qualcosa di impressionante soprattutto tu hai messo a bilancio che quella guerra la vuoi portare avanti per anni quindi secondo lei questo rapporto questo tentativo la chiamo telefonata per essere più semplice si ci sarà mai da bain e se quello mi dice quello che mi sta dicendo non fa per vedere questo allora intanto vorrei lanciare un appello che ci ascolta e dire non fidatevi delle telefonate di draghi di macron perché sono soltanto un modo per prendervi in giro ok così ci capiamo questo discorso delle telefonate un modo per imbrogliare le persone le guerre si fermano nel senso che dice che questi non servono a nulla serve 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 fermare l'espansione della nato ai confini della russia e dice basta telefonate fate un atto dove dice noi non andiamo più a mettere i missili in ucraina state tranquilli e sereni e questo dovranno però c'è anche questo